Ancora un atto vandalico nella notte, un'autovettura a lancia d'edra di colore grigio è stata data alle fiamme dei soliti ignoti mentre si trovava parcheggiata in via Nuoro, angolo via Olbia, nei pressi della centralissima via Roma. Le fiamme divampate dall'auto sono arrivate fino al secondo piano del palazzo sotto il quale era parcheggiata, bruciando tutto ciò che incontravano sul loro percorso, ma fortunatamente senza provocare danni importanti allo stabile, che risulta anerito dalle fiamme e dal fumo sprigionato dall'auto. Il fenomeno purtroppo non è nuovo a Sassari. Nell'ultimo periodo sono parecchie le autovetture date alle fiamme dei vandali, che effettuano le loro scorribande senza risparmiare nessuna zona della città, neppure durante il periodo natalizio.